I just wanted Ha scelto il maestro di sci che in passato, aveva già provato a corteggiare Ludovic Cavalli al trono classico La scelta di Milufar è stata molto dolce e romantica, come sognato da sempre dalla Dati Ma cosa hanno fatto Giordano e Milufar dopo aver lasciato lo studio di Maria De Chilippi? Come mostrato in un video pubblicato su V Tutti, la neocopia si è scambiata e il numero di telefono. Tra risate e battutini, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice si sono dati subito da fare per iniziare nella vita reale la loro storia d'amore Non sono poi mancate le lacrime, soprattutto quelle di Giordano, punto come si vede nel video di Uomini e Donne, Mazzocchi si è commosso dopo che Milufar l'ha scelto Fino all'ultimo, anche quando erano in villa, Giordano ha pensato di non essere la scelta E ha maldigerito le attenzioni che la napoletana ha riservato al rivale Niccolò Federico Ferrari Alla fine, però, Milufar ha scelto Giordano, con grande felicità di quest'ultimo Non mi sembra vero, ancora non realizzo. Sto a mille, ha detto Giordano dopo la scelta di Milufar Ho sempre avuto belle sensazioni con lei. Ho avuto quelle reazioni, perché sono sempre stato molto interessato, ha aggiunto il romano Trazione La città di Milufar La città di Milufar La città di Milufar La città di Milufar